Ciao a tutti, oggi in diretta da Tarquinia dove suonano un gruppo di cui fanno parte alcuni miei amici quindi ci troviamo a Tarquinia e tutti insieme con i Jolly Cage e se scendi a patta con il diablo, mi conti alla fine, mi fai di sempre ecco a voi, Black Sound Grazie a tutti 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 Grazie a tutti